Siamo venuti a Fiera di Primiero fare una passeggiata in centro mi sa che la giornata non poteva offrire altro Siamo alla ricerca della mamma e della Red che sono sparite della carne secca no, speck carne secca un pezzo di carne del pane dietro all'opera per cercare di deprivi la carne secca ma non vuole andare dentro in macelleria a chiedere se li la tagliano dopo aver tagliato ci mangia com'è? mh mh diventa un pezzo di carne secca un pezzo di carne secca il lavatoio questa è la piantina della città del borgo fatta di legna e marmo adesso vi faccio vedere questa è la chiesa dall'alto queste sono tutte le case di marmo e legno la chiesa dall'alto la chiesa dall'alto la chiesa dall'alto la chiesa dall'alto seguiamo il percorso ragnatele adesso Pietro entrerà nel stall 1 e poi nello stall 2 e dal 1905 forse che non entra più nessuno no way praticamente vedete fa un caldo bestia ci sono varie vie a destra e sinistra si ci sono varie vie a destra e sinistra anche si tipo qua che entra dentro anche qua subito qua è minuscolo però non so se ci passo eh? si che si entra eh no ma non entri eh no era il tunnel di coriola eh no quando si riesce ad entrare vincili vaganti un stable installation del 2013 eh no ma non entri sei vecchio quando ricordi le disgrazie i torti subiti sei vecchio quando ti danno fastidio i bambini sei vecchio quando continui a dire che bisogna stare con i piedi per terra sei vecchio quando non gusti più il rumore della natura sei vecchio quando pensi per te sei finita sei vecchio quando pensi alla morte come entrare nella tomba sei vecchio quando pensi alla morte sei vecchio quando pensi alla morte sei vecchio quando pensi a così Grazie a tutti.